Le porti sono in tiro, partiti! E' un'ultimo strato dopo il cammino, in mezzo a contestare per la parola, una roba diseggiudicata alla prima. Non è che finisca le mani avanti. Bye salto! Vai, Davy! Vai salto! Vai Salto! Vai Salto! Vai Salto! Vai Salto! Vai Salto! Si stanno cercando a piedi all'alanzo. Vai Salto! Vai Salto! Vai Salto! Vai Salto! Allora per la seconda volta! Ora chiede un'acqua per ieriati. Vuoi sghiacciare? No? Dai, non mi vuoi più! Ecco, pronti? Pronti? Siii! Piatta! Vittorio Lera Tenebra! Vittorio Lera Terer Torno La Rattar ensenziòn beneficiare la fronte anche stato Guido Avio 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 Engraia Quanto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.